Ciao a tutti, giusto per farvi capire in che luogo io vivo, tenete presente che ho percorso 600 metri sulla neve, vedete, questa è la strada per arrivare a casa mia in mezzo al bosco, quella è la casa e quello laggiù è il cancello, direte voi, cercare una casa un po' più comoda? Oh mio Dio, scivolo, sì in effetti, però io abitavo in un condominio dove alcuni cari vicini di casa mi minacciavano costantemente di uccidere gli animali perché creavano dei grandi danni, per esempio uno mio bianco passava attraverso un giardino e lasciava ciuffetti di pelo bianco che loro definivano fosforescente e dava molto fastidio, pensate un po' che danni irreparabili, quindi io presa da un esaurimento nervoso decisi di venire abitare in cima ad un monte distante dalla civiltà e nove mesi all'anno questo luogo è meraviglioso, gli altri tre insomma, vabbè questo per descrivervi un po' le mie condizioni di vita, ci vediamo dopo, ciao!